allora sono qua con Gabriele Salvatores incontro post proiezione di tutto il mio folle amore devo farti veramente i complimenti per questo film e parto subito con una domanda diciamo un pochino più faceto un pochino più stupida guardando la locandina guardando la locandina secondo me c'è un viaggio nel tempo nel tuo cinema tra passato e presente e magari anche futuro e la domanda è questa Santa Maria potrebbe essere il tuo nuovo Abba Tantone? Beh loro si sono trovati molto bene a lavorare insieme effettivamente con Claudio abbiamo molti 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 legami sai Diego ormai è una persona di famiglia credo siamo parenti ormai veramente ho vissuto ho cresciuto sua figlia c'è un rapporto talmente intimo che va al di là del dell'attore di quello professionale però l'abbiamo detto con Diego tante volte Claudio se era un pochino più vecchio era sicuramente in Marrakesh Express di sicuro anche perché nella locandina questo baffetto è chiaro un ricamo e quindi magari potrebbe tornare nei tuoi progetti a futuro sempre su Claudio volevo sapere qual è la caratteristica che ti ha colpito di più perché l'ho trovato anche lui molto ispirato molto nel personaggio molto anche secondo me trasportato in alcune scene in alcuni momenti secondo me l'emozione ha anche avuto il sopravvento non voglio far spoiler ma c'è un momento in cui scrivono al computer è una persona molto sensibile Claudio molto sincero molto spontaneo senza troppe sovrastrutture per quello che mi piace è uno che è capace di improvvisare ma di tornare a suonare poi la musica insieme agli altri insomma per capirci è uno che sa fare squadra anche quando non è lui in scena per esempio con il ragazzo con Giulio hanno stabilito un rapporto straordinario ed è sì Giulio è bravissimo è merito anche di Claudio però bene anche padre figlio dal punto di vista professionale gli ha dato consigli l'ha aiutato sì 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 tantissimo gli stava spesso vicino ma poi al di là di quello non so anche semplicemente sai mangiare insieme loro due andare a fare due poi una passeggiata nei momenti di pausa questo serve tantissimo a creare intimità e non essere finti quando poi ci si tocca ci si guarda ci si vede assolutamente si vede tutto nel film questo gioco di squadra il film è tratto da un racconto da un romanzo volevo sapere qual è il lavoro che hai fatto nell'adattamento cioè è una storia di appunto padre e figlio che si si ritrovano ma quali sono stati i cambiamenti più significativi e mi permetto di chiederti anche perché la cosa principale è stata è stata il fatto è stato il fatto la scelta di fare che il padre non conoscesse il figlio non ha mai visto il figlio 16 anni dopo che era scappato abbandonando la sua ragazza incinta gli viene questo rigurgito e e vuole vederlo almeno ecco mentre invece nel libro naturalmente il padre è il padre naturale del figlio e lo ha cresciuto con tutte le sue difficoltà questo ci ha permesso questo espediente narrativo di mantenere un pochino più di suspense nel senso che uno che non sa niente di questa malattia in giro con il figlio che non sa e di far scoprire allo spettatore che cosa questo ragazzo insieme al padre attraverso gli occhi del padre ho capito e chiudo con una ho iniziato con una domanda diciamo così leggera chiudo con una domanda leggera ogni tanto ti guardi quell'oscar hai raccontato tra l'altro con un'onestà secondo me incredibile hai detto che hai avuto una botta di fortuna anzi tecnicamente hai detto botta di culo ogni tanto te lo guardi cosa pensi guarda per tanto tempo non era a casa mia era in ufficio e non lo volevo avere sotto gli occhi perché è come se mi dicesse devi fare dei film bellissimi devi fare dei film da oscar adesso non me ne frega niente e lì appoggiato sulla scrivania e regge i libri di Fellini Antonio e Monica se avete complimenti ancora grazie ciao